Che ti vedo distratta oggi, vediamo, ti interrogo subito subito Cosa ne pensi di questo proverbio, le bugie hanno le gambe corte? È vero, sono d'accordo perché dopo un po' si scopre subito la verità Che è la gomma in bocca? No Ah, la prima bugia, subito, ecco qui, t'ho beccata immediatamente Senti, ma tu sei una bugiarda No, però quando serve le dico Ecco, è meglio Quando serve, quando è proprio necessario, sì E quando è che è proprio necessario? Quando mi trovo in qualche guaio, allora non so Ecco, a parte adesso, quando è stato un momento? A scuola Ah, a scuola, che tipo di bugie dici a scuola? Non lo so, non mi viene in mente, però ogni tanto esce qualcosa Per esempio dici che hai studiato e magari non hai studiato, oppure... Può capitare, sì Può capitare? Sì E poi quando ti interroga che fai? La vaga Giro, giro La vaga